Musica Che lavoro fattualmente? Mi occupo del settore alimentare, lavoro nel campo dell'alimentazione, imprenditore. Quali, lei pensa, siano le difficoltà più grandi presenti in questo paese? Le difficoltà sono molte perché abbiamo un territorio di 53 km2 diviso in tanti centri urbani con diverse criticità. Quindi l'amministrazione comunale, per essere presente in tutte le sue parti, per fare una buona organizzazione dei servizi, del trasporto dei bambini, degli istituti scolastici e anche delle strutture sportive, ha un notevole dispersione economica e quindi questo rende più difficile la gestione di tutto il territorio comunale. Quindi, perdendo molti soldi nella gestione corrente dell'ente, si riduce la possibilità degli investimenti in conto capitale, quindi la possibilità di realizzare opere pubbliche. Che cos'è che la porta a pensare che quelle delle descritte siano le difficoltà sentite dal territorio? L'esperienza, l'esperienza perché io sono andato 10 anni in consiglio comunale, 5 all'opposizione, 2 e mezzo ho svolto il ruolo di assessore, ho portato avanti il ruolo di assessore a lavori pubblici, all'ambiente e alle manutenzioni. Quindi il contatto con il territorio, con la popolazione mi ha portato a fare queste considerazioni che le dicevo prima e mi rendo conto di quanto questo paese sia cresciuto male, parlo a livello di viabilità e a livello di urbanistica, quanto abbia ancora da investire, parlo del settore scolastico, abbiamo in sospesa ancora la scuola Materna Martinelli, c'è il grande punto interrogativo della scuola Bartolucci, abbiamo zone su cui bisogna investire, i quali lo stadio Mandozzi che deve essere riqualificato o il consorzio agrario di casette, per poi pensare a tanti altri servizi che servono al territorio. Quindi servono tante cose, c'è una dispersione di territorio e questo rischia di rendere poco visibile l'attività dell'amministrazione comunale agli occhi di tutti. Per questo si crea molto malcontento e contribuisce a questo anche la disinformazione o la cattiva informazione. Mi potrebbe descrivere qual è stata, secondo lei, un'opera deleteria per il Paese realizzata da precedenti amministrazioni con le sue giustificazioni in merito alla scelta? Sto cercando di pensare. Secondo me l'opera più brutta è quella non fatta, quella che non ha risolto le problematiche del Paese realizzata. La prima cosa che mi viene in mente è la viabilità in zona angeli, che non esiste, questo ha creato dei problemi, quindi non vedo un'opera pubblica in particolare che abbia creato dei problemi per San Tecremaro, comunque al momento non mi viene in mente, però la cosa più brutta è quella non fatta. Ripeto, mi riferisco alla zona angeli dove c'è l'ingorgo più grande delle ore di punta proprio perché c'è la concentrazione di scuole materne, elementari e medie. C'è l'incrocio di tutto il traffico che proviene da Fermo, che proviene da Monturano, che si rivolge verso il centro di Santa Epidiamare, quindi questo è un problema cronico alle quali la prossima amministrazione, non da sola ma insieme alla provincia, dovrà mettere mano. Quindi secondo me è questo il grande problema di Santa Epidiamare, quello non fatto. In euro, quante sono più o meno, approssimativamente, le entrate del comune e quali le uscite? Il bilancio del comune, quando si prevede, è sempre in pareggio, quindi entrate uguali uscite si gestisce a Santa Epidiamare un bilancio che gira intorno a 16-17 milioni di euro di entrate e di uscite per tutta la gestione corrente e il conto capitale per la copertura dei mutui, per la gestione, per poter mandare avanti tutto lente. Le entrate riguardano trasferimenti dallo Stato, dalle regioni, finanziamenti che possono essere presi per qualsiasi iniziativa che il comune porti avanti e attraverso la tassazione dei cittadini. Prima c'era l'ICI, adesso rivela il Limo, oppure la Tarsu, oppure l'addizionale comunale sull'IRPA. Queste sono le entrate o nel momento in cui si attinge ad un moto l'erogazione di mutui da parte della cassa, depositi e prestiti. Quali frequentazioni politiche l'associative ha avuto fino ad oggi? Partiti, movimenti e associazioni? La mia storia politica, come ha scritto oggi sul giornale, io mi sono avvicinato alla politica nel 1995 quando ho vissuto un anno alla presidenza della Repubblica. Da lì è nato in me un attivismo nel 1999 in quanto mi sono candidato per la prima volta alle elezioni comunali. Non sono entrato subito in consiglio comunale, ho ritenuto opportuno portare avanti le battaglie per il mio quartiere fondando l'associazione di quartiere celeste. Successivamente, il 29 maggio 2000, sono entrato ufficialmente in consiglio comunale, ho preso il posto di un consigliere che si è dimesso e da lì è iniziata la mia attività politica. Quindi io ho portato avanti le mie attività nel partito di Allianza Nazionale che poi è diventato PDL. Successivamente sono uscito dal PDL in quanto non mi sono più riconosciuto nei valori di un partito che non dava indicazioni. Ho portato avanti quella che è stata la gossola che è uscita dal PDL che era di Futuri Libertà. Oggi però mi rivolgo alla cittadinanza da civico in quanto ho abbandonato qualsiasi simbolo di partito perché ho ritenuto che oggi i partiti non rispondano più alle esigenze della popolazione, non siano più lo strumento necessario per fare politica ma purtroppo sono autoreferenziali e quindi non interfacciandosi più con il cittadino viene a mancare quel collegamento diretto e quei buoni propositi che il partito poteva portare al convivimento. Non rispondendo più alle esigenze dei cittadini ho ritenuto di portare avanti questa mia avventura con grinta, con entusiasmo, libero da qualsiasi logica di partito che magari mi potesse dettare come può succedere, anzi come succede, le idee, gli accordi e eventuali accorpamenti futuri. Può farmi l'elenco degli altri partiti, movimenti e liste che appoggiano la sua candidatura? La mia candidatura è appoggiata dalla lista Forza Giovani e Allianza Comunale. Forza Giovani è una lista di ragazzi da 18-35 anni che si affacciano per la prima volta alla politica, hanno deciso di impegnarsi in prima persona, di metterci faccia e idee per migliorare il paese, per dare il contributo alla mia campagna elettorale. L'altra lista si chiama Allianza Comunale, anche essa contiene all'interno alcune persone che hanno esperienza politica, altri invece si avvicinano per la prima volta alla politica ma si riconoscono nell'area di centro-destra pur restando fuori da l'incolo di partito. In sostanza, che cosa vogliono in cambio del loro appoggio, in ambito economico e politico? Secondo me la domanda è malposta, io rispondo come la interpreto io. Innanzitutto, se mi vuoi dire come la interpreti tu. Io la interpreto in questo modo, cosa unisce praticamente il candidato sindaco con le liste che mi appoggiano? Ecco, un programma che abbiamo stilato insieme. Le due liste mi hanno chiesto di rappresentarli in questa campagna elettorale. Io ho fatto presente loro quello che pensavo e quello che ritengo opportuno fare per Sant'Empire e per il prossimo futuro. Questa mia esperienza l'ho voluta mettere a loro disposizione. C'è stata un'unione di intenti, abbiamo ritenuto di poter condividere lo stesso programma, le stesse idee, gli stessi principi, sia per risolvere il problema di Sant'Empire e Mare sia nel modo di fare politica. Questa visione univoca delle problematiche di Sant'Empire e Mare ci ha unito e ci ha portato appunto a portare avanti questa, tra virgolette, chiamiamola battaglia insieme. Ha un'idea per le persone che ricopreranno gli assessorati? Allora, per quanto riguarda gli assessorati, io ho un'idea della suddivisione degli assessorati. Per quanto riguarda le persone, un'idea ce l'ho ma ho ritenuto opportuno non farla, però posso fare già una piccola geometria che ho in mente. Due assessori saranno presi dalle liste, una dalla lista Allianza Comunale e una dalla lista Forza Giovani. Prenderò tre tecnici esterni, tre tecnici esterni specifici per i settori. Uno, un super tecnico che faccia la grande programmazione del Comune di Sant'Empire e Mare, quindi accorpare urbanistica e lavori pubblici, la grande programmazione perché sono due settori che debbono viaggiare insieme, in quanto la programmazione delle opere pubbliche, dove farle e come farle deve viaggiare sulla stessa lunghezza luna. Mi riferisco ad esempio alla scuola materna Martinelli, quel sito non va più bene, va individuato un altro sito, va programmato, bisogna capire dove e come fare questa scuola. Bisogna riqualificare l'area Mandozzi, bisogna riqualificare il Consorzio Agrario di Casette, bisogna prevedere zone industriali e commerciali che si integrano con l'attuale sviluppo urbanistico. Quindi qui vorrei un super tecnico. Mentre tutta la parte dei servizi al cittadino, tutte quelle funzioni che debbono creare un legame tra il cittadino e l'amministrazione comunale, le voglio dare ad un assessorato che preveda le manutenzioni, l'ambiente, i vigili urbani, la protezione civile, quindi quelle risposte dirette che il cittadino deve avere quotidianamente. Ho in mente un altro assessorato che vada ad accorpare cultura, turismo, sport, commercio, perché anche qui serve un super assessore che possa coordinare lo sviluppo da questo punto di vista di questo territorio. Mettere in rete tutti i musei, mettere in rete le attività commerciali, mettere in rete tutto quel potenziale che questo comune può offrire ai turisti che ovviamente devono essere invitati a Sant'Equilammare e portare delle motivazioni valide, che possano andare a visitare tutto il nostro territorio dalla Basilica di Santa Croce, che deve ritornare ad essere e avere una funzione pubblica, al parco fluviale che ovviamente non deve essere trattato come è stato fatto fino ad oggi, ovvero inaugurato e mai rimesso a posto, quindi è stato soltanto uno spreco di risorse. Quindi mettere in rete tutto quello che abbiamo dal Chienti al Tiena. Poi abbiamo l'assessorato al bilancio, l'assessorato ai servizi sociali e l'ultimo assessorato che manca, adesso mi sfugge un attimo perché servizi sociali, bilancio, mi sfugge, mi sfugge non ho perché c'è un attimo la visione perché ce l'avevo ben preparato ieri sera, tutto quanto bilancio, servizi sociali, lavori pubblici e urbanistica, tutti i servizi coordinati, mi sfugge e scopo guarda un attimino un po' da me, succede, poi approfondiamo comunque, prego. Quali saranno i criteri con i quali lei sceglierà le persone? Quali saranno in pratica le caratteristiche che queste persone dovranno avere? Allora, per quanto riguarda gli assessori scelti dalle liste, anche lì voglio vedere se prendere il criterio del più votato, perché comunque è un'espressione del cittadino, del popolo che vota e che quindi dà la propria indicazione, o comunque tra i più votati. Per quanto riguarda invece quelli scelti dall'esterno, e lì andiamo sul tecnico, lì andiamo sulla persona specializzata in quel determinato settore. Questo è qua. E quali saranno le iniziative e mezzi o comunque le manovre che lei farà per garantire la corrispondenza con quanto richiesto a lei? Cioè, come farà ad assicurarsi che è veramente competente in materia? Lei parla dell'assessore? Io parlo parlando, sì. Degli assessori in generale, cioè quali saranno? Come farà ad essere sicuro che quella persona è corretta da quel posto? Sono sicuro per il semplice motivo che se devo parlare dei servizi sociali, devo prendere una persona che ad oggi svolge il ruolo dei servizi sociali. Per il bilancio mi avvarrò di un commercialista per i lavori pubblici e la programmazione, farò riferimento ad una persona esperta nel settore, quindi un tecnico, un ingegnere. Poi, per quanto riguarda manutenzione, lavoro con manutenzione, ambiente, questo e quant'altro, anche lì devo vedere bene se prenderli dalle liste e cercherò di capire anche la loro competenza. Quindi non è un problema, c'è un margine di manovra, me lo devo lasciare, per questo oggi non faccio i nomi. Però ho ben chiara in mente quella che può essere la formazione. Quello che deve essere chiaro è la diversa impostazione che voglio fare degli assessorati, dividere quelli vicini alla persona e quelli della grande programmazione. Poi, tra l'altro, non avevo un voto di memoria, ne avevo citati 5 di assessorati, perché sono andati 5 di assessorati, quindi non ne avevo citati, non ne avevo citati 5, quindi era questo il problema. Prego. Allora, nel caso di pallottaggi, lei saprebbe indicarci con chi cercherà parentamenti o comunque con chi assolutamente eviterà qualsiasi tipo di accordo politico e il perché di questa scelta? Allora, io faccio le risposte di principio che ho sempre fatto. Innanzitutto bisogna garantire la governabilità, gli accordi si fanno sui programmi e non sulle portone, noi siamo civici, essendo civici possiamo essere aperti ad accordi con qualsiasi lista politica. Il problema che vogliamo è il rinnovamento. Chi garantisce il rinnovamento nel modo di fare politica? È quello che noi cerchiamo, un modo diverso, bisogna abbattere quel modo di omertà che c'è nel Comune, perché non c'è nulla da nascondere, non avendo nulla da nascondere, non ci deve essere problema di interfacciarsi con il cittadino. Io faccio riferimento anche al bilancio comunale. In questi giorni qualcuno ha chiesto il bilancio comunale e sembra che ci siano grosse difficoltà a far vedere alla cittadinanza il bilancio approvato. Ebbene, questo bilancio oggi l'ho preso, lo metterò a disposizione dei cittadini che lo potranno vedere su internet, lo potranno vedere su Facebook, proprio perché non c'è nulla da nascondere. Quindi chi ci garantisce questo cambiamento nell'impostazione della politica, nell'interpretazione delle esigenze dei cittadini, avrà il nostro appoggio. Fermo restando che prima di parlare di appoggio posso dire che io tranquillamente posso avere le qualità e i numeri per andare al ballottaggio, quindi devo vedere anch'io con chi andrò a parlare nel momento in cui andrò al ballottaggio. Cosa pensa dell'opera dell'amministrazione comunale cominciata nel periodo preelettorale? A che mi riferisco all'ascensore? L'ascensore serve, si è sempre parlato di ascensore, però non è un'opera singola che risolve i problemi, i parcheggi e il centro storico, è una serie di azioni. Adesso io non voglio polemizzare col fatto che l'amministrazione abbia iniziato proprio due settimane dalle elezioni, proprio perché ritengo che il cittadino sia intelligente, quindi non va a votare o a non votare l'amministrazione solo perché ha iniziato un'opera pubblica in campagna elettorale che è il più vecchio dei trucchetti, quindi non voglio assolutamente essere malizioso nella tempistica, dico soltanto che l'intelligenza del cittadino porta a fare un giudizio sull'amministrazione comunale uscente di 5 anni, non soltanto degli ultimi colpi di coda. I giornali hanno dato la notizia della modifica del PRG nella contrada Sette Camini, H7, dove nei prossimi anni ha approvato in pratica... Posso rispondere accorciando i tempi, dando la domanda, la conosciamo. Io ho partecipato al Consiglio Comunale del 19 aprile in cui si è votata questa variante, perché ritengo che questa variante sia una grandissima opportunità di sviluppo per quella parte di territorio. La cosa che mi è dispiaciuta è che ho criticato l'amministrazione comunale che una variante del genere deve essere fatta all'inizio di un'attività amministrativa, perché l'amministrazione deve dare il proprio taglio politico alla crescita del territorio. Una variante di queste, arrivata due settimane dalle elezioni, non ha senso, tra virgolette, perché comunque ci fa capire come non ci sia stata programmazione in 5 anni e come l'amministrazione non possa fare altro che andare dietro le esigenze di un privato perché non riesce a programmare. Fermo restando che abbiamo partecipato, non abbiamo fatto polemica e abbiamo votato, ho votato a favore di quella variante proprio perché l'ho ritenuta come una fonte di sviluppo per l'azienda, per l'imprenditore, ma soprattutto per quella zona. Grande risorsa per il territorio di Sant'Ecchina Mare. Allora, pubblicherà accordi in percorso successivi al pallottaggio per appoggiare le eventuali candidature? Gli accordi si fanno a viso aperto, quindi andranno assolutamente pubblicati, non c'è nulla da nascondere. Chi ha gestito e organizzato la sua campagna elettorale? Un gruppo di persone che mi ha sostenuto e che sono comprese nelle liste, quindi siamo noi che abbiamo organizzato la nostra campagna elettorale, io sono il capitano di una squadra. Quanto ha speso per la sua campagna ad oggi e chi ha sborsato ad ora il denaro? Il denaro ce li siamo autofinanziati, noi candidati nelle liste e il candidato sindaco. Non l'ho fatta ancora il conteggio, però la cifra più grande è praticamente quello che riguarda il discorso della stampa e dei manifesti elettorali, perché per il resto non abbiamo fatto cena, non c'è nulla di più. Sa più o meno a grande linea su che cifra stiamo? Ma penso un 2-3 mila euro. In seguito, vogliamo un attimo fermare? Spero, l'hanno risposto. In seguito leggerò delle parole e lei dovrà dire quello che le viene in mente in merito, lavori pubblici. Lavori pubblici, le opere pubbliche che mancano ancora al Comune di Santa e Pia Mare. Vai, vai. Bilancio e finanze. Bilancio e finanze, le ristrettezze economiche mi vengono in mente, quindi dobbiamo andare a prendere le risorse in altre serie. Vai. Cultura e spettacoli. Ufficio Stato. Ah, figlio di spettacoli. Pubbliche relazioni. Il Comune deve essere aperto ai cittadini, quindi massima informazione per i cittadini sull'operatività dell'amministrazione comunale. Cultura e spettacoli. Vanno messi in rete per potenziare tutto quello che Santa e Pia Mare può offrire alla cittadinanza e ai turisti. Urbanistica, pianificazione, retrasporti. Il nodo fondamentale del futuro di Santa e Pia Mare è perché dall'urbanistica si riesce a capire come sarà lo sviluppo di Santa e Pia Mare a livello residenziale, recuperando l'esistente soprattutto, e a livello di viabilità. Condenziosi. Condenziosi vanno chiusi prima possibile perché rappresentano un macigno nel bilancio del Comune. Sviluppo economico. Sviluppo economico passa attraverso la riqualificazione del centro storico, la valorizzazione delle aree commerciali tipo la branca d'oro dove ci sono delle fabbriche e degli outlet e vogliamo creare la vetrina delle marche in centro storico, nonché riportare il mercato nel centro storico. Partecipazione della popolazione nella vita del paese. La popolazione deve essere coinvolta nelle grandi scelte che l'amministrazione comunale dovrà prendere per le grandi aree e per le grandi riqualificazioni. Sicurezza. Dobbiamo collaborare con le forze dell'ordine, soprattutto nelle zone di confine. Contra ad Angeli. Contra ad Angeli ha bisogno degli investimenti che non sono mai stati fatti negli anni. Centro storico. Centro storico è un'inversione di tendenza, ho detto, recuperando i palazzi comunali, i palazzi dei privati, riportando il mercato e riportando attività commerciali al centro. Casette. Casette Rete è stata, per quanto riguarda la scuola, c'è stato un percorso di riorganizzazione e stiamo messi bene a Casette Rete, anche grazie all'investimento di Taravalli. La variante del PRG ha dato il suo contributo, è una zona di Santa e Pio a Mare ben sviluppata. Luce. Luce, abbinerei Luce Cretarola, è il versante dove abbiamo previsto la realizzazione della farmacia che è scattata con la nuova legge Monti, alle quali vogliamo dare questo servizio, e delle strutture sportive vicine alla scuola. Cascinare. Cascinare ha bisogno a livello di opere pubbliche di un marciapiede che vada via verso la fonte di mare e è fondamentale l'aggregazione, così come a Bivio Cascinare è fondamentale l'aggregazione, tanto che richiedono la realizzazione di una piazza. Castellano. Castellano, il grande intervento a Castellano è stato fatto per la scuola, per via Iachini, per l'osservatorio astronomico, invece c'è la possibilità di sviluppare un parco astronomico lì intorno, quindi anche Castellano potrà avere la sua identità. Mostrapiedi. Mostrapiedi è la perla di Santa e Pio a Mare, in passato in qualità di amministratore ho realizzato il camminamento, il parcheggio nel Bresti del Cimitero, ma ad oggi va assolutamente asfaltata la strada che passa a cura mostrapiedi perché è totalmente inaccessibile. Mi sono rimenticato qualcosa? Penso di no perché gli argomenti principali sono stati toccati. Non abbiamo parlato in tutta l'intervista di sanità e di sociale, questo te lo faccio notare. Ah, vale. Quindi, sanità e sociale. Scusa, è finito il tempo? Sì. Abbiamo detto, dopo il tempo... Se vuoi taglia qualcosa? No, no, no. Allora, no. Una volta finito il tempo, siccome abbiamo perso qualche secondo, il problema non è quei 30 secondi. Sì. Non sto a guardare i 30 secondi. Finito il tempo, tu hai la possibilità di parlare di un argomento, l'hai scelto. Sì. Non c'è il limite di tempo. Naturalmente tu l'hai scelto, però è logico che non te posso. No, faccio un paio di un minimo di faccio. Esatto, esatto. Tocco giusto l'argomento. Esatto. Quindi, quello di cui non si è parlato all'interno di questa intervista, è dei servizi sociali. Voglio rimarcare che tutto in un periodo di crisi, un periodo così delicato, servizi sociali riguardano tutti i servizi della persona, parlando dei seri nido, parlando delle strutture quali la serra, quali il girasore, della casa di riposo. Qui vogliamo realizzare, nei pressi dell'ospedale, il polo dell'anziano. L'ospedale, con la richiesta di applicazione di quanto previsto nel piano sanitario regionale, ovvero dei 30 posti letto di lungo degenza, la RSA, mentre nell'edificio avviacente la realizzazione di quella casa di riposo che non può più essere sostenuta nell'attuale struttura. Lì c'è bisogno di investimenti, di una collaborazione con l'ASUR, la richiesta di finanziamenti extra bilancio comunale, possiamo andare in Regione Marche a prendere questo tipo di finanziamenti, a fare una richiesta, è importante avere della progettualità e di portarla avanti. È fondamentale, questo si sposa anche con le opere pubbliche, la realizzazione della sede per la Croce Azzurra, perché altrimenti questo è un servizio che tra un po' vedremo sfuggire al Comune di Sant'Eppidamare. Della farmacia ne ho già parlato, per il RAS posso dire che il Comune di Sant'Eppidamare ha dei servizi di ottima qualità, quindi è bene confermare questi servizi. Non è facile nonostante le ristrettezze di bilancio, ma un amministratore attento e ovulato deve garantire questi servizi. Poi bisogna vedere sempre la situazione del tessuto sociale, perché oggi sempre più persone si rivolgono al Comune per richiedere agevolazioni, finanziamenti o piccoli aiuti economici, perché veramente la situazione per certe famiglie si sta facendo molto molto delicata. Pensando sempre al sociale è importante poi gestire con l'Erap un piano per l'edilizia economica e popolare, comunque prevedendo il recupero degli edifici urbani in centro e questo ci permetterebbe anche di far ritornare persone nel centro storico. Ho concluso con questo, grazie. Grazie. Adesso mi serve una domanda. La domanda è, mi può spiegare la sua versione diciamo in base alla vicenda delle telefonate? Sicuramente avrà sentito, diciamo. Ci sono tra virgolette tre assessori, tra Terrenzi, lei e Paride, che ci sono state decine telefonate e addirittura ho sentito, tra virgolette, di voci, chiamiamole, come si dice, voci fuori coro, di essere stato additato e quindi l'intervista è stata ritardata apposta perché ci sono stati degli accordi per non fare questa intervista. Lei sa qualcosa in merito? No, ho sentito gli altri per sapere se fossero stati contattati, abbiamo detto sì, si valutava l'opportunità perché c'è una situazione strana dove ad oggi chi si candida a sindaco visto il desiderio di antipolitica sembra quasi che possa essere preso, sbattuto da qualsiasi parte, da chiunque. Allora abbiamo detto cosa facciamo? Diamo la disponibilità a chi è giornalista di professione, oppure come ci viene richiesto qualsiasi tipo di intervista ci muoviamo, quindi questo è stato solo il contatto e solo per sapere se qualcuno era stato contattato da qualcun altro, quindi io tranquillamente ho fatto una telefonata per sapere o comunque anche per capire il punto di vista, dal mio punto di vista non ci sta nessunissimo problema. Ho dato disponibilità, ci ho messo qualche giorno per capire perché volevo valutare la situazione, volevo valutare, questa sera ci sarà un confronto tra candidati sindaci, non ci sono problemi a confrontarsi, però ecco ripeto, un attimino capire le richieste, come vengono fatte, come bisogna comportarsi, ritengo che sia opportuno un momento di riflessione. Questo è qua, quindi non ritengo né malizia né altro. Qualche telefonata glielo confermo, per me non c'è nulla di male, anche perché la cosa di cui mi sento soddisfatto e orgoglioso è che tra i sette candidati sindaci ci sia competizione elettorale, ma ci sia rispetto, lo stesso rispetto che io ho sempre dato ai sindaci alle quali ho fatto opposizione, quindi questa è proprio una cosa di cui vado orgoglioso, il rispetto alle istituzioni che deve essere scisso da altre visioni della visione, quindi. Ok, ti ringrazio. Prego. Visto.